...pervento della VIL, tre sindacati che continuano a lavorare sul territorio... ...e non ci siamo, anche perché io ho qualcosa di studenti da dire, va bene stare parlando della differenza del genere. Quello che ho fatto stamattina, che a quale di più dobbiamo incontrarci, ma dobbiamo incontrarci su tematiche specifiche, perché che cosa sia, concretamente, la differenza del genere è poco chiaro in giro, chi parla delle costitualità, chi parla che non si debba vedere tutta roba, si può fare tutta giuro, la differenza di genere consiste non in qualcosa che ci si sveglia la mattina, si sveglia il significato di volte e di volte, ma che sono documenti europei e anche mondiali che ci rivolgono a che cosa sia, ed esattamente consiste nel fatto che uomini e donne sono diversi. E in questa diversità bisogna lavorare con le leggi, cioè le leggi quando vengono fatte, piuttosto che un spazio, ma dobbiamo tenere conto di queste differenze. Quindi se esiste una differenza del genere, questa differenza del genere va valorizzata, quindi uomini e donne devono essere valorizzati ciascuno per quelle che sono le loro semuliarità, caratteristiche e insieme, no? Andare avanti, questo significa il non tenere conto della differenza del genere, trattare una donna, fare più uomo, diventa una discriminazione, perché non si tiene conto della sua peculiarità. Ecco perché è tanto importante fare cultura del genere, semplicemente per capire che il non fare cultura del genere automaticamente genera la discriminazione. e vado avanti. Mi fermo un secondo, lancio a questo tavolo, che mi rivela in mente una proposta di un seminario nelle scuole, dovunque voi riteniate opportuno, al fianco i sindacati, per parlare proprio della tutela del genere, per fare discussione di questi concetti. Poi, andando a partecipare, non c'è sovrastazione maschile e femminile. Se di fatto, se di fatto, noi donne guadagniamo meno dei nomi, di fatto significa che c'è una discriminazione salariale, si parla di un'emozione europea, di che è gender pay, cioè, differenza salariale a danno del genere. 25% in meno rispetto ai colleghi, maschi, perché, per tutta una serie di motivi, non l'ultimo, lo diceva anche la collega della Cingereza, perché noi donne abbiamo un modello di lavoro diverso, perché non ci tratteniamo troppo su luoghi di lavoro, non è vero che lavoriamo in sapore di strumenti, cioè, non la ragazza, non la prenda a capa, però, insomma, tendenzialmente, non vendiamo il nostro tempo, come lo vendono gli uomini, e quindi, essendo il modello lavorativo maschile, i maschi premiano i maschi che restano di più su luoghi dell'altro di lavoro, non premiano la qualità di lavoro, ma la quantità di lavoro in termini di disponibilità. Anche su questo, se vorrete, faremo degli approfondimenti, ci mettiamo a vostra disposizione, parlo, diciamo, anche degli altri spagati, naturalmente. Il mistero in bianco ne ha parlato l'isabetta, abbiamo fatto una grandissima iniziativa, non abbiamo più una legge di tuteli, sia le donne, ma sia le categorie socialmente riescono, come per esempio, gli edini, da questa pratica diffusa. E quindi stiamo lavorando su questo tema e richiediamo, come dire, di scendere al piano anche il nostro, nel momento in cui ci sono iniziative di corrispondimento. Parlo, c'è la generale, violenza domestica. Il tema della violenza è sentito talmente tanto che i sindagati con la provincia o quelli che chiediamo di mettere in rete hanno promosso un'iniziativa delle scuole che andrà a sistema e vi chiediamo di partecipare come scuola a un concorso che è una gran circolare al giorno, ma è più violenza sulle donne. Doppio perché vogliamo che questo tema entra nella cultura e diventi sempre più sentito, perché vogliamo che si cresca proprio più in costa violenza. L'ultima cosa, vabbè, avete sentito cosa? Assessore, avete capito che si stava lavorando di pari passo, avete sentito che c'è grande emergenza all'operazione, quindi siamo qui perché siamo stati invitati dalle vostre associazioni, quindi il territorio di Catania c'è particolarmente caro, anzi, un plato per tutte le vostre iniziative e un plato per tutto quello che sta facendo con quel cosiddetto. Infine, non posso non dire una cosa di cattacicula, la cittura di Napoli, che abbranza tutti i territori di Napoli e provincia, ha promosso dei corsi di orientamento universitario agli studenti, ovviamente gratuito, proprio perché il problema dell'occupazione più minore ci interessa e se noi organizziamo bene i nostri giovani possiamo dare, come dire, uno stimolo a non sbagliare tra contato universitario. Per la parte delle donne disoccupate hanno un'altra scolarizzazione, sono laureate, però hanno normalmente delle lauree con i dentifili sul mercato del lavoro. Quindi, avere maggiore consapevolezza di una scelta universitaria che hanno dato un'occupazione è un posto che noi abbiamo detto che è importante promuovere il messiale. Io vi saluto e mi scuso perché sono costretto ad andare via insieme all'ossiera di parità e alla amica della CGL perché dobbiamo andare a presidiare un'organizzazione per un evento di non male mazzina quadri che invitiamo dove le donne della città incontrano le donne immigrate e un'iniziativa che si verrà e ci sarà anche il sindaco dei Magiri che si è un assessore alle varie possibilità del comune di Nato che sarà la notizia di pari di paesi. Beh, ci saranno le comunità, la presentata delle comunità che ci sono sul nostro territorio che faranno sia un'iniziativa di tipo colpito di formazione di partito dove le donne immigrate parleranno e ci raconteranno cosa è vivere in una città da donne nera. Capite? Grazie.